Cala il sipario sulla stagione 2022-2023 della VL. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si concede fra gli applausi degli 8.000 tifosi della Vitrifico Arena che hanno visto una squadra che ha messo cuore e abnegazione, ma che alla fine ha dovuto chinare il capo davanti alla forza superiore dell'Armani Milano, che ha vinto la partita 80-94, chiudendo la serie dei quarti di finale play-off sul 3-1. Alla VL non è riuscito di replicare il miracolo del giovedì, ma resta la soddisfazione di un anno che conferma Pesaro per il secondo anno fra le migliori 8 della Serie A, oltre alla conquista delle semifinali di Coppa Italia. Ora si passa alle valutazioni su budget e programmi tecnici in vista futura, a cominciare dalla panchina di Repesha, che già nella sua recente apparizione ad Insieme a Canestro di Rossini TV aveva invitato ad un passo avanti di programmazione, sia in termini di continuità di budget, sia di stabilità di impianti d'allenamento. Dal basket al calcio 5 manca ancora l'ultimo atto all'Ital Service Pesaro per salvare una stagione estremamente complicata e distante anni luce dalle tre precedenti infiocchettate da altrettanti scudetti. Sabato, nell'andata dei play-out, Tony Dandelle e compagni si sono portati avanti nel lavoro battendo 4-3 il Monastir a Sestu in provincia di Cagliari. Una vittoria arrivata al termine di una complicatissima settimana, culminata con l'esonero di Fulvio Colini e l'affidamento della squadra al vice Davide Barniesi. In Sardegna l'Ital Service parte forte e chiude il primo tempo avanti 2-1 grazie ad un autorete e alla firma di João Miguel. Il Monastir si dimostra avversario tenace ma Pesaro c'è e vince grazie alla terza e quarta firma di Murillo Schiochè e di Oliveira. Sabato, nell'ultimo atto Pesaro, basterà anche un pareggio per mantenere la categoria. In caso di vittoria dei Sardi con un gol di scarto, la salvezza si deciderà ai supplementari. Nel calcio finisce con un'enorme soddisfazione la stagione dell'Alma Juventus Fano che da quarta in classifica vince la finale play-off in casa della rivelazione Vigor Senigallia seconda forza del torneo. Al Bianchelli decide una magia di Nappello per lo 0-1 dopo un paio di minuti che però, come dal regolamento di Serie D, non sarà sufficiente a garantire la promozione in C.